Musica 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 Nicola Musica 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 Grazie. Buongiorno, pepe. Buongiorno. Buongiorno, maggiuncana. Ogni mattina è sempre più tardi, eh? Non è piatto il suono. Ma niente! Piatti mi ha fatto caramelo, che stamattina non mi ha fatto niente e ora per mezz'ora! Ma... Come non c'è la santa giornata! Che hai fatto? Vai! prima ma te noi carmo 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 yes 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 stappate ma e mo consegui ecco per fare se a curcia la vista allargiamo il bug ove buongiorno buongiorno grazie buongiorno 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 e buona venuta al nostro bello e bello buongiorno 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 Grazie a tutti. 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 e basta. Grazie a tutti. a tutti. Grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. 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 E' già finito il pacchetto che hai fatto ieri? E' ieri sì, Ramonio! Ohi, Francesco! Tu stai a capire mio, tu stai a capire... E ho capire che tu sei suor, mi stai a prendere la canna per me. Eeeh... Ma che ti credo? Perché io sono due giorni pensato che tu... E poi non ho visto che la gente per tirare una vera... a me nero a cortoletto di rifra... e mancoci fuori! Quella gente ti vorrei dire tu... e te ne... besti come veni dicendo... quante scafottone in tuo mux? E' poverino se ti puoi da te pagare! Quante scafottone in tuo mux? Attana, mi devi scusare... ma che era per la porta! Obe, qua ne vado sicchi... e qua ne rire! Ma fa frire l'ho, obe! Ma stai a capire... Tu stai a capire... Tu stai a capire... e tu stai a capire... los soldi di te... e tu stai a capire... e tu stai a capire... mi è un po' sottotone... e mi hai fatto fatto che... mi è fatto come... ma tu... tu non hai visto quello che hai fatto? Che ti hai fatto? Che sei menta qui? Mi hai visto quello che ti ho fatto? E io ce ti ho fatto... che ti ho fatto bene? Mi hai visto quello che tu mi hai portato a me? che non era stato per la bocchetta ma l'ha fatta arrestare pure a me ci aiuta a dire a chi che ci aveva mangiato qui bella roba è buona solamente a mangiare vivere e fumare che tu vuoi fumare a pagare un mast buonanotte e ora sai che dire va finisci mentre butti nella brachetta di un'ottere che ne stiamo andando con un giorno bella bella tenere ma tu hai visto che il brachetta di un'ottere c'è un po' di acqua non è fresca la fischia perciò bella bella senza pressa e senza mutare grazie breve so buongiorno Teresa ti hai portato il caffè? grazie eppure la gianduia per te ci rifare la bocca grazie a te sei sempre gentile se ci fare la bocca è ricca che sì professore è la mia niente a me va a me prendere subito la bocca notte che sono rimasto ieri sera stamattina mi ha provato ieri e tengo come uno scastamento di barbacca che è? state città su Franci che ha raggiato il voleno che mi ha fatto piedi ieri sera con quello che non ha ramato il bucconotto non voglio non suonare nulla eeeh come hai avuto il coraggio di un bucconotto ma anche per quello che mi ha fatto il prezzo Teresa quando è buono sta gianduia ti ha arrivato la bocca non mi ha fatto il quando mi ha fatto il non mi ha fatto il non mi ha fatto il non ti curare di loro ma guarda e passa è che mi ha sciuta tanto ma scusami ma hai signori che Non guarda e passa Siediti E porgi il tuo lobo In modo che In modo che io possa deliziarti Con questa mia umile parca poesia Scritta da me, misero mortale In una illuminata notte di maggio Mi è piaciuta un'altra E segnate E mi cominciate buona giornata E segnate Illuminata maggio A te la dedico A te la recito Prefessore Che è? Che amico dice la poesia Se ci vanno poche musica Deve chiamare bandi di parto Alla qua no Faccio minare una rosina Con cura faccia E poi ti fanno le mani mannelli Vero se hai raffato che era Vero se hai raffato che era Ehm Ma Ah Eh Quanto non hai venuto a costruire Prefessore Aspettate E quanto non hai sentito a costruire E quante non hai sentito Ehi Francesco Ehm Tu ero professore Ehm Stai puttando Ah ti faccio riprendere il cinema Veramente Che? Chi la fa carmettuccino Ma vedi Ma ora mi riprende pure la poesia Sì Ma non hai capito E chi che quando mangia Io ne voglio Ehm 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 Specialmente Mi canta Seca la bramboletta Ha scritto per Ehm 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 Aspetta un'altro Aspetta? Ehm Aspetta Ehm 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 Ti hai saputo Tu che le soldi Sprigli Tu hai Ma se hai rimasto Un giudato a tu Ehm 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 Quando Vissarite Mentre ti E quando Mi hai Tu ti ha scordato Un giudato a tu Ehm Ehm Un giudato Un giudato Non Non Come Ehm 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 C'è che ho trovato Un giudato Un giudato Ah Attena ti raccomando Stasera quando Che c'è Pagacello Pagacello Ehm E allora Quello soldi Che c'ha fatto? E quando Non puoi sapere C'è 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 Le Un giudato Ehm Ove Niente Ho stato Con quattro Per Nascar Va bene Eh Che vuoi Per la faccia Noi Eh Ma Ma C'è Questa Poesia Canta Amca Pagano Succar A Pura Chiarai proprio sotto la scuola. E pare che che è ancora a parte del giopo. Teresa, rimembre ancora quel tempo della tua vita mortale quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitì. E tu, lieta e pensosa, illimitare di gioventù salivi. Premesso, ma scusate se te fai. Hai parlato a rumore, Franammo? Io vorrei usare che a scuola non tieni, non pochi sorelli siano. Però a me mi piace questa poesia già in dis. Ma che sarei cien, Natana? Come hai potuto sentire questa poesia? Io stanotte, stanotte, l'ho partorita questa creatura. E pur te dire che questa poesia, che è nata stanotte, che già è tutta cianciare la guna truppita. E' vero, Franci. E' vero, Natana. Sta poesia. Sta paura poesia, tanto che cianciare che era rimasto da l'netta. Prevesso, la sigara con capicina niente. E' rosace, killer guai. Buon gondo, Prevesso. Ma scusare e mi apportunare. Ma che io ho la poesia nella poesia sentita. Perché io ho scattato la pelle del bottone. Se non mi rimanerebbe fatta con me e poi non voglio. E beh, beh, beh. E' vero, Natana. Eh. Ma che è? Si, mostro io. Che bocca. Ma a me se ha scordato a scattare queste cose. Mostro le quattro le spie. No, se scordate ti ha scritto su questa carta. Ma mi faccio la guardia. Ero scopo tu. pure a rire si non mi metti i bruci 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 aspetta che apriamo a rire ah alla fine chi vuoi dire e che guarda a fare a me tu tu che è e tu noi non mi metti i bruci e tu non mi metti i bruci e io mi metti i bruci non mi metti i bruci ma io non mi metti i bruci oi Francesco allora io non mi metti il corpo mi riso non mi metti i compri se non mi farò e che ti feo aspetta l'ultimo e queste si mi metti i papi se non mi metti i sali Ora c'è la poesia, professor. Bene, te. La sigla, professor. Non capisci proprio niente di questo. Tere, a me devi scusare ma perdonare. Ma io, che sono già un po' di dire più avanti. Parto un po' di porta a chiudere. Tu non hai capito per il cortile. E che cosa è che? Ma è possibile che ogni volta che scrivo, pensi una cosa? Perché ci sono già visto che c'è un buon rave. O me deve spruzzare. Che bello. Io non so che ci provo a parte a fare questa maniera. Che bello. Vuoi sapere che lei mi ha fatto tutta me? Che t'ha fatto? Non ti faccio. Faccio io. I roppi che sono state notate e notate sana, sana a pensare e a ripensare, a pensare e a ripensare sulla storia di un misero e infreddito passerottino. Ma tu mi dici, che non è che ci potete dire a pensare che la storia di un passare. Ebbene, cara Teresa, ebbene. Un aveva fatto a tempo, ma anche ci ricette la prima scopo a parte. Quando avete detto... Ah. Dino sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna vai. Rappateci. Che ti ha detto? Si. Si. che la storia di un passare aveva sentito rarangunare. Wow. E rubirele che c'è un giusto. Ma ha detto pure che questa storia che aveva letto sui libri quando chi l'aveva fatto la quinta. E parte ha fatto pure la quinta. Non ha fatto quinta. Pappé ci rilassiamoci ieri. Prevesso. Ma tu ti capisci. E cosa mi capisci? Ma che ti capisci a fare se chi? Non ho capito che mi riusciti i nuovi artisti. I chi? I nuovi artisti. I nuovi? Ah. Ecco, ora ho capito tutto. Ah, vedi? Allora, vieni a me. Prevesso. Prevesso mi ha scusato ieri a cucinare però non ti capisci ieri con papà. Che le buone solo a cucare e tagliare. No, solo a tagliare a buona parte. Ah. Beh, beh, va a cucinare. Va a cucinare. Prevesso. Ah. Tu hai capito. E lo sai, ormai ci sono tanti anni che ha detto. Quando il vero cagino, ma ne vanno poco a verbo a verbo. E ne hanno pure ragione, non puoi andare a fare. Ah. 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 Sant'Agostino. Guarda quei piggiovini. Chi si va a vincere il centro? Eh, professore. Per dire a te, Sant'Agostino diceva niente, ecco. Però sono contento di capire. Oh, eh, capire. Ora è giunto un momento che mi fai un brindio sull'arte. Eh, professore, vuoi che mi ha capito? Perché, come diceva Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte. L'arte. 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 L'arte, quello che capisce me nuvole. L'arte. Ah, me ne vanno un po' via. Non abbiamo capito, professore. E vuoi che mi capisci tu? L'arte. L'arte. Bisogna prenderla e metterla da parte. Come diceva Napoleone Bonaparte. Ah, bella sarta. Quello professore non finisce mai imparare. Non con l'ignorante e l'attanasia, eh. Ma. Professore. Eh. E vuoi dire una cosa? Sì, sì. Perché non abbiamo pochi arti? Eh, eh. E l'amendiamo da parte. Magnifico. Come riceva? Non può essere una buona parte. Eh. Quanto, quanto però fa? Rua. Rua a chi? Rua a qui? A Perù. A Sant'Agostino. Non può essere una buona parte. Ah, ecco qua. Bene. Ah. Ma me ne vedo. A dove? Mi sta rullando anche per la mezza rega. E mi accattarono un po' di gnocchi. È stato buono, Cici. È stato buono. Però questo è un gnocchi. Sì, sì, un gnocchi, un gnocchi. Ah, io non puoi accattare. Appena ho mettato. E questo non è buono. Non ti piace? No, non è buono. Garo spunto. Non mi ricordo che garo spunto, aspetta. Ecco qua. Ecco qua. Come che? È buono. Ecco. Un gnocchi, credo che è un'altra cosa. Mi serve che l'un gnocchi che mi va accattare. Eh. Per mostrare questa sette poética che tiene, che mi senta come una bamba in fuoco in Francia. Porreguia, professore. Che ti? Tiene una bamba che aveva. Che mi scina. E poi mi viene. E su un astuto, professore. Su papi ciò e non puoi dire. E lui dice, come si vuole? Tu stai con la tua bamba, che mi va a far parte da un'altra domanda. Questo è buono, sta? Eh. E lui dice, come si può dire, beh, io ho spunto, ma io ho spunto qua. Ma io ho spunto da un'altra domanda. E lui, lo ho spunto, non è buono. Sì, non c'è nessuna bottega, perché c'è un sacco di satanasi e la sua mente capace a comandare. Ogni tanto, davanti di gente, ma c'è una macchicina, ma c'è un paluoso, che si crea che è fuori, che non si fa fare i scarpini, che si fanno scarpare, senza essere scarpare. Come ha trovato il canto di tosse? Chi? A me c'è un dune, non mi ha fatto passare. Se una volta mi è passata a capire la ruova e mai mangiata. Ora faccio a giù. Beh. Buongiorno, ragazzi! Tu parli inglese? Che ti parli? E cosa vuoi dire? Sono Romeo Romeo? Questo è il mio figlio! Ah, ma va te curcaccio! C'è un ruolo! O che quando... Romagna su un drappettino che si appresenta sempre O non dico, non l'ho mai chiesto! Che cosa vuoi dire? Sono sordi? O non ci siete, forse? Che ne sei tu? Padre, ma dove? Eeeh... Guardi, calma, calma! Con la collocazione della crenza! Ma tu che ne sei? Io? Sogno Romeo! Romagna? Piacere! Io sognerò proprio bene! Eeeh... Ma che capite? Che è il mio padre, Eeeh... È il mio padre che sta a crenza. O padre? È il mio padre! È il mio padre! È il mio padre che è chiusa! Oh! Ed era il mio padre! Ma quello il mio padre è sotto! Buonvenuto! Chi sta? Mi racconta che c'è una circolazione? Sì! Allora, fammi piacere! Fai un minuto! Buonvenuto! 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 Romeo! Ma mamma! Scina, scina! Che è venuto Romeo! Che è venuto! Romeo è venuto! Romeo è venuto! Romeo è venuto! Romeo è venuto figli! Ha fatto un buon viaggio! Ha fatto un buon viaggio! Quando sono fatto bene! E' questa bella signorina che ne è? Oima! This is my girl! Carita! This is my girl! Una maghera! Ma io sì! Ma io vorrei essere! Era un funerumere! Come ha avuto questo coraggio per portare una maghera che sa noce! Oima! Ma che ha capito! Vieni a dire! Chi sta? Grazie a mia! E' una maghera lei! Si chiama Giulietta! Piacere! Piacere! Oh! Oh! Ma! Perché ha fatto un buon viaggio! Un geringo! Eh! Romeo è venuto a fare una maghera e muovere! Tu prendi! E tu non avevi conosciuto la mia mamma! E veramente! Avevo pietro per neanche tre! E io avevo te! Ma era pure mezzanetri! Ma pure arrangiazza! Ma nemmeno a due ore che appartenevano! Quando ha detto che era una maghera! Ha capito tutto! Ha capito tutto! Romy! I am very very stanca morta! Io voglio fare doccia! Very very calda! E mangiare! Mangiare assai! You understand? Tantagina! Facciamo a stendere un tutto! Capiamo in attenzione! E questo è un gatto rubaggio! Vero signora? Ma capito! Ha detto che se vuoi avere troppo, vuoi mangiare assai e assai! Vuoi mangiare assai! Non puoi! Ricciare il suo per te raggiungere! La vera! Cacacca! Quando ne vuoi aggiungere! Mangiare! Cominciare l'osso! Cominciare l'osso! Ma ci faceva creare! Perché io cuginato il baccalà! E ho fatto i bruppetti! E ho fatto pure i macarini! Sempre che te l'amiendo! Capito la storia mamma! E ho fatto tutta questa roba a mezz'io! Lepo! Che vuoi fare il cuore! Per te avvenire il tuo prego! Questo ma è sempre scarso! Romy! Mi fai non piaci! Ti stai questo qui che mi stai facendo girare l'ovra a mezz'io! Mi piace! Romy! Let's go! Iemenina! I love you! No la signora! Signora! No! Vi mangiare la nostra votata! Disse quanta roba buona che c'è a mezz'io! Romani! L'acqua è una roba! No! 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 Non è un po' di più! Sì, un po' più carri, non è? Ma ho portato un pacchetto di carretti a me ne porto. Che cosa ho fatto io? Mi piace. Mi piace. Mi piace. Mi viene a fare carri, perché sono un pozzo di vivere. Mi viene a fare carri. Buongiorno, ma a tutti. Buongiorno, buona manita. Non vi voglio, non vi voglio, non vi voglio. Oh grazie, ma che rego è stato comandato. Di dove? Ma comandato sempre. Sempre questo. Ma che suzapia. Ma che suzapia? Eh... Ma che suzapia? Ah... Ma che suzapia? Ma che suzapia? Ah... Ma che suzapia? Ma che suzapia? Ma che suzapia? Ma che suzapia? E perché? Ho già già menzima. Ma che suzapia? Ma che suzapia? Ah... Ma che suzapia? Ma che suzapia? Ma che suzapia? Ah... Ma che suzapia? Ma che suzapia? Ma che suzapia? Ma che suzapia? quando c'era il bambino... Ma che suzapia? Ma che suzapia? Ma che suzapia? Ma che suzapia? Non è bene, non è bene, non è bene. Quando venne, a capo il gordonero, un costume, un guazzino, un giubattino, mi diceva sempre, ma ci diceva, fa la mia esperanza, si dice, taglia, taglia, ma io non posso tagliare, se ho avuto un prezzo, se ho avuto un po' di tagliare pure. Una volta non ho la caccia, una volta non ho la manica in giacchetta, e poi buttare la giubattina, doveva buttare, quelle serbe erano. Perché un scarto, non ho capito, che sembra di nero. Insomma, per catarire, che deve essere arrivata raddosa, o sta pensando alle sordi? I sordi, professore, i sordi che non si senta un bago sucio, che la gente si crede che noi, cambiamo l'aria. Quando si sceglierà la roba, per meglio tagliare, poi, quando dirà il pagamento, tutti hanno poco, professore. hanno poco, a quello. A tenere il professor Borito. Ma che è possibile, che tu e i canati, pensate sempre a sordi? Chiun ha vita, e chiun può vivere. E dopo sì. E guardatevilla, non può vivere. Faceteci per aria, su pochi cervelli che avete, non c'è. Date spazio alla creatività, alla fantasia, all'estero. Guardami, ora che mi ruggiva da portelli, veniva bello, tranquillo, senza problemi, tutta una volta. Pah! E non scopo te. Non scopo te. No. Non piace la musica, che c'è l'unica, se non vuoi mettere una volta, su un pentagramma, va a finire come un scuro. Tu faccio sei. Famo sei. Un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa, un pochettino. Aspetta. Un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa. e non scopo, non c'è. Un'altra cosa, non c'è. E non c'è. Un'altra cosa, e non c'è Che cosa faccio? Faccio con il marito sempre tu. E che fai? Pegli. Una cosa bella la vita. Fammi vedere un po'? Ah, sì. Bravo! Voi che sta cominciando a tempare? C'è una cucinaia di due, professore. Bravissimo! Aspetta. E tieni, tieni. Se iniziamo a spruzzare. Ponte spruzzare a sé. Ecco. Ma sapere o gustare la vita. Ecco. 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 Ah. Che cosa faccio, professore? Vai. Buona venuta. Buona venuta. Buona venuta. Tu vuoi vedere il bucchier di vino? Però tu vuoi vedere il bucchier che sono finito. Un giorno è qui. Ah. Ah, 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 ah. Te fatigate. Ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Quando hai fatto un giro, il giro ci abballa. Ah, ah. Che cosa serve anche un altro? Veramente, professore. Eh, attana. se ci fosse una ruota arriva. Capità? Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Sapurassimo che guarda erano delle ruote. Bracaccia. Eh, signor Miller, provo a essere avendo! Sì, sì, te, che è la signora. Signora! Adesso, sempre per piacere e mai per comando. Ricciare! Mi dovresti fare una cortesia. E perché no? Ricciare! Ma questa era una punta, una tasca in un luogo che si è scusata, e ho paura che potessi perdere alcuni soldati all'estricità. Vira questa parte, alcuni vecchi. E niente ciò! No! Franci, mi serve anche una cosa? Niente! Così va benissimo! Va bene, siamo a posto! Questa è la menzione che ne abbiamo mai lasciato. Sì, che è pochissimo! Per essere bravo! Eh! Tanto perché io ho fatte che c'è che non ho fatte a posto! Eh! Ma su ciccio! Ha visto? Ha visto? Ha visto che usate un sacco di pescini? Eh sì! Ma che beccarrete voi! Andate a potere che potessi stare a dirciutti da mattina a sera o a cucchiare un carroccio! Eh! Ma cosa sono queste allusioni, Atanas? Aspetta che parleremo di terra e terra. Eh! Eh! Ste botta che ne stai attando! Se sta parlando di me! Ah! Ricordate che io per soggiornare in questa... E ci amiamo a cosa da! Cosa! Va bene, ciccio! Io ti pago e ti strappago profumatamente, ciccio! Ha capito? Eh! 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 Sì! Eh! 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 tenere il che direttano solamente i pericoli che lo vengono a faccia faccia come quando lo faccio i quattro? mai pagato, mai! io la pagura che avessi di cacciare ancora, oggi ho fatto neanche i saccocci riciclatorono in fastidio, hai capito? tanto c'è l'arte finisce l'arte finisce un po' che si fa, non c'è nessuno e non c'è nessuno, ho capito? ho capito che il professore, non è goio, non è domani e come ricevano a mettere i rischi ci può capire pure un'arpe a me, c'è bene cercare i miei figli e il povero ginnazzo che vergognoso, una poca città, un poca c'è un'arpeza e si ne fa attorire, amma cardia, amma ronna fussa Oh Isabel, cos'è ragione? Ma Teresa Noce almeno un po'. Ah, non so come. Vuoi prendere? Ah, guardate un po'. E poi se vuoi capire che tene, di chi se ne innamore? Era allora. Sei contenta Teresa mia. Sogno contento pure che dice. Però, una cosa c'è la tavo chiarire. Oh Isabel, questo fatto che faccio? Sì. Viena a dire, che non mi chiede pure che loro sordi che non mi chiede. Hai capito? Vangena. Viena a dire. Non mi chiede, non mi chiede. Non mi chiede, non mi chiede, non mi chiede. Eh. Quando c'è acqua verde in questa casa, ma non mi chiede. Ah. E che non mi chiede, non mi chiede. 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 Ma che non mi chiede. Ma che ci ha fatto? Non mi chiede, non mi chiede. Non mi chiede, non mi chiede. Ma che è tutto l'estero? Non mi chiede. Ma dove c'è tutto l'estero, che non mi chiede. nascondere c'è sempre il cuore e il cuore. E' una vera che non mi ha fatte cantare lì. Ma che stai dicendo? Tutto è una garba con un minuto, ma sono i bellissimi con te. I bellissimi? Che ti puoi vedere? E' a te che ti ha portato? E' a te, ma io mi ha portato i zuccoletti. E' una zuccarana, ma c'è un pochino di luce e mi ha lasciato il pennello. Questi aromini, con c'è la ghiesa, ha sciogato la paracchia. E tu ci stai a camminare tu, chi sei? E poi come c'è il loro trucco, percicarire, ti fanno anche la pittovaracchetta. Mi piace una braccetta grazie. Ma a me non piace. Ma ricetta, come si chiama? Ma questa giuletta che ha portato fratto, come puoi bere? Giglietta? Oh, ma buono, sei come in turcino, ma bucere. E' una breve guagnone, come teperate. Magnifica. E' una guagnone che si mi dica, ci sembra sempre a te, come fosse a te correre. E' una parola proprio come a noi. E' una scritta a Romè, yes, il che, yes, il le. Yes, yes, come patuta, quando la senta a parte, ne fa pa' gente. E' una spagna che ha rubato una parola scongiurenti, come un sole d'azù. Ah, trova a sentire a Romè, l'azienda di broca. E' una cosa più forte, oi ma? Un aspetta. Questa è una cosa più forte, mai sei. La pace sono in fronte a 40 anni fa per ieri. E' una cosa che avessero fatto. Tutti i giorni avessero quello che vengono fatto. E' una cosa che avessero fatto la giornata. E quando avessero fatto irusi, se avessero ne il tutto, se avessero sentito l'acqua bella, se avessero Ma, ma, che si credo che io mi faccio una maniera schietarana e le faccio la serba come la sta facendo a bussare. Come me, come se l'ha fatto malamain. La sbutà sarà che è per la fortuna tutta me. Che a poveri mi sono muppi e mi spuso con d'anta o mi stai arcarcani ma satanassi e rucata che sono priega la fortuna di uscire. Che a poveri mi sono riusciti, che a poveri mi sono riusciti. No, 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 non ti prendi l'occasione. Eh sì, grazie. Grazie. Pape aveva fatto i sacrifici. E ora voleva che non si sposasse mai un bravo a niente che fosse seri, che aveva riusciti la fatica. E non, non va in giro come il totone. Ma che stai dicendo che il totone è fatica, ma la fatica è fatica, ma la fatica è fatica. Ma la fatica è fatica. Ma la fatica è fatica. Ma non la fatica. No, non la fatica. E non la fatica, ma la fatica è fatica. E la fatica è fatica come una volta, e sempre c'era la gente da qui. Ma c'era una metà convenzione, c'era la roba fatta che buona. La fatica è fatica e non è venuta. La fatica prima si è cascata, due ragioni, ma con la convenzione non è guadagnare, ma non la fatica è fatica a Spagna. Spagna? Ma mamma mia. Chi sei stato in Spagna? I love Spagna. Io adoro Spagna, Madrid, Barcellona, Siviglia, Rodeo, Toro. Spagna is very, very beautiful. Romy, noi andare in Spagna e portare your sister? Ma quella Spagna è Spagna? Che allora ha Spagna, chi ne vuoi capire? Non c'è. Che ha fatto a sé, allora sei andato a trovare la stazione di treno. Giulio, ma che ti chiede? Che siamo a Londra o a Manchester? Che siamo a courier. C'è un bucato in inglese? Oh, sì. C'è un bucato in inglese. Tanto, come dice, non c'è niente. E niente c'è niente quando non sognato che io. Sulla patria hai trovato una bucata barrucchetta. Che è? Un'estate buona forse. Ma hai fatto a regge. Io no. Io no. Io no. Se non mi prendo la mia plena, si ripartano l'ad Menu. Dopo voi non senti a capire, non ho paghia più o meno, ma non ho fatto un percorso. Non so, come mandare a pannellare dalla famiglia, perché sto togli? Non ho fatto una chiamata. C'è un bucato. Tanto, andiamo? Oh, you are my love. Io voglio mangiare, bere, fare doccia, very, very calda, e colcare con te. Romy, Romy! Romy, Romy. Come ti do? Come ti do? Dove? Lì. Perché non mi viene andata con te? So, Francesco, la sara era il cavallo non è sé, lo sanzi di noce. Così fa così, era babbo la bai, fa senza malignità. Ha visto? E' venuto mi abbracciare. E' mi abbracciare. Ma tu sai come una sorella, non mi abbracciare. Ma che c'è da fare? Oye, Francesco, per tu fai un galluzzo, e poi mi hai fatto l'acqua, e poi mi hai fatto la cipolla, e poi mi hai fatto la cipolla. E che famiglia! Un sogno di me è stata apprezzata. Faccio tanta cura gente per venire a te, a te, a tutta la famiglia, e poi mi cadendo, un sogno di me amore. Mi avevano becchiare. Mia laỏi… Ma buona tnotta, e allora sicuramente come se la avessi ritorata lo avevano nouvelles. La gallia non aperta. Ma una situazione. Deve no morire? Ma una cosa sicuramente. Non็ ieri che non ave początku Rene. Come on, Romij, é una bica, ecce. Isbic Bic, un uffa. Cadete que! No, non è francese, ma è un bel sorriso. Ma così. È un bel sorriso. Come andro, come andro. Mi chiedono poco. Quando hai capito, ti ha toccato il baccalè. Che cosa è il baccalè? Cosa. Cosa è il baccalè? Cosa è la prima cosa? Cosa è la prima cosa? Rau, Rau, tu hai un baccalè? Giulio, il baccalè è il baccalè. Cosa, il baccalè è il baccalè, il baccalè è il baccalè è il baccalè. Cosa è il baccalè? Pensi allaよし, per l'id stimulus. Non sono s– Setez içi con fetture? Qui mi le ho ? Bambi sorgendo... E se Senate donna mi dobbiamo comprare quei giorni da città. E se teme il baccalè è il baccalè... frangi oh e tu non vieni in un e ma voglio affenerire l'appunto a questo qua e i soldi tu sei sempre il primo a questa terrazza eh osacce mamma per fargli i guagni un avanti oi francese devo la mia ora che andiamo sempre vedi che su per la carrenza arriva i gestelli ci avevamo messo una bottiglia di vino quello buono che non avevamo detto Don Carlo quando ci avevamo questo tuo costume ti ricordi? io avevamo messo il corcetto arriva i gestelli per farlo ancora ma capisci ma come è una vita che vuoi mangiare? uè professore ma vogliamo passo passo i maccarroni vorranno giustizia ah e se trattenete un altro po' che non senta questa bella mogerta eh fa buono professore maniato ah visto come è per ogni giglietta oi Atana quando faceva la maccarron si mangiava con lui che povera è lì e chi è lì doveva fare la maccarroni e non è facile eh guarda me la pizza oi Isabeto è stato scritto come è che tu sei sceso su chi la partirà su giù è lì è lì doveva fare la maccarrona ma io ma io ma io doveva fare la maccarrona ma io ma io ma io ma io l'ho ma io io ma io la mia ti io l'ho che le 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 la 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 Signore, poi c'è anche la bella figlia c'è anche la squadra più mero marito c'è anche la bella figlia Marina Cos'è che vado a cena adesso a me? C'è una scoperta per la pausa C'è una scoperta per la pausa Ma non è vero quando si... Marina, Marina è bellissima è una bella ragazza, caro Ciccino Ecco, chi è la zia? Ti l'ha detto qui, caro Marina, sei tipo bella E come ti prepara a te? Ah! Quella Marina, caro... Caro tannese è un boccuolo di rosa Ah... e un fiore che sboccia ogni mattina e lascia... Buonasera Buongiorno Come si sa scegliere, allora Buongiorno B sporting sono venuta a ricogliere la pietà giacca che la domenica si va a tirare a figgere come la mia mazza di mindre oi Francia, hai preparato la pietà giacca di pietta? ci sta facendo muco la ditta, a tre settemane hai venuto oh capito, e su cui ti vuoi? perché ti vuoi dire che hai un momento che riesco, lo capisci lo capisci, ma per quanto ti vuoi? ma scusate, sono venuta a prendere ma sono venuta a prendere la pietà giacca ma sono venuta a prendere la pietà giacca e perchè? io sono venuta a dire, ma scusate solo la pietà giacca, la pietà giacca ma non la pietà giacca, ma scusate e volevo sapere di come mani sapere, non è come si sa che per sistemare una figlia ci non vuole per chi? e per sistemare una roba e solo il professor può dire quando i sacrifici stai facendo il professor è che c'era il professor il professor è tutto il professor è tutto il professor è tutto i sacrifici facciamo tutti e prendiamo non facciamo i sacrifici che ha detto per mani alla banda sta pagando e poi non mi apprezzano e poi non mi apprezzano levels e mi stia facendo la cucina e poi non mi viene non mi viene non mi viene io mi viene è stato scala una porta che si è presentato che si è presentato prima tu era non mi ha sentato prima mi aveva sentato non mi viene tempo Sì. Sì. Mi ha fatto pagare un cugno. Però se c'è un medico ricco, mi ha fatto una passata. Eh sì, Puppe. Eh, credo. Come dire, mi vuoi cucinare i macari? Eh. Eh, ma presto, andiamo a dire. Non aspettiamo la tua zucca. Se mi metti, non puoi finire la caccia con la ragazza. Ma se te ne hai ragione. Runa mi ha fatto la giacca, se tu prendi e mi viene. Eh, previso. Eh, previso. Eh, previso. Ma ti ha fatto una cosa? No. Perché a casa non ci sta venendo qui, previso. Eh. Eh, che era per te, previso. Sì. Eh, ma prima ci venite sempre. Ci va sempre. Ah, mattina, non puoi mangiare. Sì. E ora? Non puoi fare bene qui. Quello bello caffè che vi preparavi già un giorno. È buonissimo. E le pastelle. Eh, le belle pastelle che vi faccio. Le pastelle. Le pastelle. Le pastelle. Le pastelle. Ah, previso. Ah, previso. E poi che le belle poesie che scrivi. Poi sì, ma. Eh. Non scrivete ciò? Sì. E allora, previso, perché io mi venite a fare sempre ciò, previso mio? Perché? Cara donna Puppetta e carissima Maria. Ma cominciamo. Avete ragione. Io mi stai facendo abbrire per cortomamente stai scrivendo poesie e canzone del pasto. Sì, ma. Un po' di me ciò. Ciò, ciò, ciò. Ma ciò che conta è un'era presenza fisica. Ciò che conta è l'estima e l'affetto e il bene e l'amore che vi porto sempre nel mio cuore. Come per me già farà stupione. Amaro. Signa, previso? Sì. Sì? C'è un pepino? Beh, te Puppe, eh. Ah, puoi portare la tessittà stessa manna. Quasi io che è, Márcia. Molto po' di nobili. Grazie. Ah, buon appetito. Ah, buon appetito. Eh, Puppe. Buon appetito. E' un'aricca a moto di la nonna, ma un'aricca a pagare. Márcia, te ne vieni a te curare un uo nisau. Oh, Puppe, quello che era da cuore. Oh, ma che... Ma che... non c'è nessuno che portiamo qua ma c'è una cosa non c'è una cosa mi ha raggiunto proprio la cosa e che ti prende che ti prende oi Prevesso dimmi ma viste che bella borsetta che c'è che ti prende Prevesso ma vede come si è apportato come lo come me guardala Prevesso guarda ho visto Prevesso Prevesso io questa borsetta me la sono fatta accattare da mamma perchè ho voluto seguire un vostro consiglio o meglio? si Prevesso ma vedi che scorda eh si il Prevesso quando viene a casa mia me ne ha un consiglio buono si Prevesso ma vedi tu Prevesso che la donna con la borsetta ecco ha stile eleganza raffinatezza Sharmu quante cose che ti ha detto Sharmu si Sharmu si Prevesso si si Prevesso ho fatto scordare però perchè io mi scordo niente 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 a mia no e poi una cosa con me ho potuto scordare si 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 la donna con la borsetta eh no si la donna nella borsetta si custodisce tutti i suoi tesori come custodisce nel cuore i suoi amori Prevesso beh oh Puppe si 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 non si 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 se si 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 ti hai ragione ora vede, quando ci sei stretto, vedi io ti hai ragione hai visto il colozzo mio ti hai ragione se c'era il colozzo si 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 se si 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 Voi te non vieni a fare? Vieni a fare il mio compagno. Vieni a qui, dove? Vieni a me. Vieni a te. A terra! Vieni a te. Quando mi mette il don Joan, che mi fanno un po' di fuoco. Vieni a te. Vieni a te. Vieni a te. Vieni a te. Prego, signore. ma guagnone che te ne pare e ci poi ci ci è un bocciolo di rosa è un fiore che sboccia e lascia una scia che vai spettacolo inconfondibile vieni qui vieni pure qui guarda guarda senta senta che fragranza che profumo che aroma masacchino candur cosa stai sentendo adurì macarrù cosa stanno buttando non mi ha già nero o no prova professore anna si appena usare macarrù appena usare macarrù non mi ha già nero mi ha già nero non mi ha già nero ma vuoi Stanno tutte speranze A rufumirà cannella E preferisco Più presto Adesso andare a rire Vi va тер visto Aria Se ne fanno male E non mi più E tu non fai tanto E come me Così rire, così c'è Stai a pensare che non mi ha accorgato Ma? E mi ci sono detto E fa male? Prezzo Hai visto come si è accorgato? Non mi ha nominato Che non fai l'ho inventato? Ucci, ucci Pusero tutto Ti rispondono tutto ucci Hai visto? Ricca che io no? E per questo mi ci sono detto Ucci, ucci, ucci Per lui Avviene rire la gallina E se è una cosa più normale Ma? Tu che stai rire? Come ti spieghi questo fatto? Caro Attanasio Questo è un mistero della natura Evidentemente il lo tempore Chi? Chi è che? Ti stavo dicendo Anche gli equini erano vipari E le vipari E che ci sono le vipari State cittadini Se le vipari Dessere la cassa La cassa è una cassa E la cassa è una cassa E stai tutti più tranquilli Attanasio Pure i ciuci facendo uova Ma che sta riuscendo? E pure a me nemmo, pure a me nemmo, ora c'è più in subito, c'è qualche esemplare. Ma? Prefessore, quanto sta allargando? Non mi sa, c'è il gioccio che fai nel luogo. E tu, professore? Carattanasia, mi meraviglio di te. E perché? Abbiamo la fortuna di averlo nel negozio, questo esemplare raro. Già, appunto, era dove? Umi, ma è il ciccio, ci manca solo a cura. Ah, cura! Mi faccio stare a te. E allora, mi... Aspetta, allora mi stai assumendo il nome nage. Ah, non mi mette che stanno nage a che mi ricamo. Pargerilla, ma. Capo, mi mette, che ne gero ci uccito ti, e poi mi faccio stare a te. Fai nascente, ne fai nascente. Drega, quando il bello marito è mio, a fare cosa raccocata. Voi tutte le mie ghiere, e poi farò tutto il место. Lui è, mi mette, che? Ehi, lei è, mi mette. E l'amore, lo ha fatto. E' un comodo, eh? E' un comodo... E' un comodo. E' un comodo, eh? E' un comodo. E' un comodo. E di farci? E di farci un uomo, professore. Sì, un uomo. Sì, che �i! E di farci un uomo? E la tua... Lo avevi già? E quante figlie di te erano tu io! E di farci? Sì, siamo a cavallo. Sì, siamo a cavallo. E' un parrenno che l'ha trovato dietro, non potete sapere? No, un interesse. Un altro capitano, un giusto a cavallo, su di proprio aperto. Sì, sì. Sì, sì. Quelli che i figli non ci stanno nella pasta di macarrò. All'inizio, sono all'inizio, e poi c'è la giochina. Ma... Ma... Beh, io andavo... Ehi, ecco... E ora mi sa che... ...e la mia parrenno è fatta, vai. E la mia parrenno è fatta, vai. Per sapere che è fio per far 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 farlo. Oye, Francesco. Se mi ha detto che ti piace far 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 farlo, non ci farò far far farlo. Non ci farò, non ci farò. Senta, senta. Però... Se c'è il nome, tutto va bene. Se non ci farò, quando ci sono stati, sempre, sempre sul signore, da fare campione. Se noi abbiamo sempre fatto il nostro premio, non ti preoccupare. Ah, aspetta. Senta, senta. Senta, senta. Tu, come andai? Probare. Sì, sè bello, bello. Probare su quanto mi ha fatto. Ehi... Vieni a prestare a me. Soprano, non c'era il mio joffio, ma ci hai fatto... Un joffio, e il mio joffio... Un joffio... Un joffio, un joffio, un joffio qua! Buongiorno, la massa... Cosa è tu? Buongiorno,…. No, Giovanni, no! Voglio fare delle bellezze, Ronna Maria ci che ci ha fatto! Giovanni! Buongiorno. Accomodati, prego! Buonvenuto, Dojiwa! Chi è sempre un medico? Prima a Chito vi sembrava tutto il dono di qua? Sì, non mi sembrava un momento, Giova! Dojiwa! Dojiwa! Che stiamo a cercare? Ah, capisci! C'è un'illuminata con Gianni e invece mi rispondono su tutto il ruandante. Ma che è un'illuminata? Dojiwa! Ci sono il comando! Ma se non, senza prezzo! Insomma, che dà mia questa comunità che mi stavo facendo e mi sè tutto. Ehh! E per chi stai al di là? Don Giovanni, deve stare in un buio? Non lo so, avevamo in un acqua di acqua Dove c'è un acqua di acqua di acqua? E' un acqua di acqua di acqua di acqua. Chi stai al di là? Un po' Non ci sto a dire. E non ha il professor! Caro Giovanni, quello che mi ha detto adesso mi ha preso un po' sotto la gamba come tapiette? ma mi ha messo la gamba quello che mi devi un po' dalla meta è quella doppia pernacchietta poco intervallata ma come si dice? noi non mettiamo catteluziche ma se tu non e che pochè? mi piace a te ci vuoi a secchi io mi sto citando però ho chiesto qui è proprio a tosta è tosta a chiesto ecco io mi arrivo a riciamarlo si non ci vuoi dire se vuoi sapere ci vuoi passare l'anno che bello sempre se il signor ti fa cabello ma città veniamo al dunque sono passato per cui trovo ormai fuori moda gli abiti che mi hai cucito gli scorsi anni ma questa è una roba buona però è usato questa costruzione ma tu le conosce? io quei abiti fatti buoni non c'è ne fatti qui bravo 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 io non c'è ne fatti qui prima di me non c'è ne fatti qui sulle spalle ah non capisco io non capisco la roba mai scelgierà buona si come voi potete dire come mai scelta la moglie si mi ha scelta la moglie non c'è ne fatti qui mi ha scelta la moglie mi ha scelta la moglie per amore di Dio ronna maria che femmina nobile eh 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 qui nel mio paese tutto ha disavuto eh ragione che quando non piacere può fare eh professore sbalancare il porco eh ah 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 te ne hai ragione cicci ah ah se non fa accorgere tutta la giacca come diceva il suo moccatone eh ah se c'è passione un giovanente ad aprire il portone ah 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 professore ma che ci mette il portone ogni tanto professore eh dimmi Giovanni ma io stamattina proprio non capisci non capisci ma non sarà proprio provato come ultimamente eh ma stanno venendo ci avviene proprio un giocore la notte eh e se non viene veramente poco poco oi giovan di questi tempi e specialmente di notte bisogna essere vigili 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 a stare con l'occhio tanto 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 perché chi dorme eh non piglia pesci già ma che ricotto ne bisogna guarda che sta a fare tu c'è capisci ma capisci ma non ha raccogli ma non c'è ma che c'è ma che c'è ma che c'è ma sì 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 sarà l'aria sarà un paese però ultimamente mi stai sentendo una pesantezza continua che ma si ferma se ferma no cammina 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 mi stai sentendo a fare una pesante doggio ma mi scusate ma se ti obede se delisio odurgele a doggio doggio a francesca vaserini sì e sembra mire sì oi facci ma capisci ma capisci ognuno tenere ti obre ti obre da doggio e pulo ma piere e mosura ti obre E' positivo! Ma non ti ho capito! Sono a tua disposizione! Prevento, metti il cartello e più i numeri! Sì, dove vieni? Ma non mi hai capito! Ma non mi faccio! Ma non mi puoi andare avanti e ripeto i bracci Sì, come si faccio in questa maniera se mi ne parecchio. Diciamelo tu come mi mi interi. Mi interiore un anno che mi farà piacere. E così. Qui sono pronti? Ma se ti prendi, per la fine di una giornata ci faccio. Ma se ti fai feroce e bici. Si, si. Pi a pi. Ora faccio non ci vuoi. Non ti fai fai fai. Un'altra cosa non ti fa. Hai visto la mia città? Fai provare la città. Un'altra cosa? Un'altra cosa? Un'altra cosa è possibile? Non ti fai la città. Un'altra cosa? Dei perché? Vieni a chiedere. Come ti sa me, Giova? Vieni a te, vieni a te. Gio. Girovita 2,80. Scusate, ma che c'è da Cicilindro Girovita di Giovanna? Sono gemelli siamo. Allora facciamo 300. Girovita, 300. Girovita, 300. Come se non mi prendiamo. Un cavallo? Un cavallo? Proprio Gabriele, un cavallo. Un cavallo, un cavallo. Mi piace a te. Cavallo. Cavallo, 76. 35. Fuglio il cavallo. Sì, già sì. Ma è una speranza. Brazzo! Signore. 87. 102. Gamma. 76. 76. Nessun capama. 76. 78. 88. 67. 80. 89. 90. questo non te lo consenti non devi essere modesto perché io non ho la vita mia e poterlo a grande fortuna una che è un maschio su tu grazie e tu maschio su tu non riesci sapete una che è un maschio su tu proprio un meno e ora e la moglie si ti andata giù grazie hai saputo scegliere ma diciamo amici chi è che la femmina che quando il marito che scelte chi invece ci prende il capo e ci prende una maniera accompagna la porta con il sorriso sulle labbra ronna maria è che non non è un solo ma si sta bigliendo tutta la notte fino a qua non mi ricordo Ah mini, non c'è anche il posto. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda, guarda. Guarda, guarda. Guarda, guarda guarda. La mia arriva. Ah, tu ti妳i? C'è un'accentode? Guarda, 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 guarda guarda. e Don Giovanni è venuto a prendere la piccetta ah no fanno un attacco se non una moglieria chissà vuoi essere tu tu ti vuoi essere tu ma come si dice? tra il dire e il fare è meglio evitare eh sì amici miei come c'è moni che è una cosa seria perchè non siamo sposati e c'è 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 ma immaginate su come e capisitemi a pecorella a vissa d'unga per la zappa a rilurice e mi dica whatsapp e qua si mangia su tutti i giorni per le spune brava Tochua brava io non avevo furtini di chi sull'ipad nooo che furtina mi c'è mangio sempre arcotta visto che siamo in tema visto che siamo in tema Giovanni vorrei spezzare una lancia a favore di quei poveri disgraziati ai cuori gli è toccato in dote dote la pecorella la claudicante la poesia la poesia la poesia la poesia la poesia è pronta era capo allora Giuval sono il fattore buon ma ma la poesia il gianismo voli tu non perdere mai e ma non lo faccio mai la zucca è poesia la muccia mi corna c'è se mi piace la muccia mi corna che in vera la moglie dura orma e dorma sotto una pietra e muvina e si mangia sempre merma e formaggine Mermi e formaggi? Oh, il professor! E' mermi e putti su! Formaggi! Ma perché non capisci? Giuva! E' vero che ultimamente tu non hai già visto che ti stai mangiando roba fatta con robacini? E' vero che non hai già visto robacini! Hai capito? Perciò più, restate cinque! A propositi, Giuva! Ho capito come vuoi fare? Che cinta è ora su capelli? Eh, come una cinta? Ah, cinta capelli ci vuoi! Io non voglio capire! Ah, però vedete che ti faccio! Che mi fai? Che ci fai tu? No, che facciamo tutti! Ah! E poi se no non fai pa dietro a Giuva! Eppure, fa cominciare i tuoi mercati riti! Passo ieri Giovanni! Ah chi? Dici che è il caso! Io, se fossi in te, opterei per un bel cilindro! Ah! Professor! Gli attacchiamo per dire che ci metti qui! Allarga, allarga! Ecco qua! Oh! A me lo cominciamo se lo cominciamo tutti! Giù! In questa maniera Babu! Eh Babu! Ma se tu non hai! Andi su Professor! Il cilindro sia! Il cilindro sarà! E lo faccio pure qui! Grazie! 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 Grazie a te! Siamo pronti! Tutto a posto! Tutto a posto! Tutto a posto! Tutto a posto! Vai con te! Do Giuva! E mi raccomando! Do Giuva! Saluto alla Signora! Giovanni! O segui alla Signora! Non mancherò! Non mancherò! Non mancherò! Vira! E tu! Oh! Ha detto che a te la casa ci raccoglie! A te la... A te la... A te la... A te la! Toi! Ta 구unica! O hai ma mami! Cosa puoi sapoter! E qui m'accepterà werdare? A ti ha risauffo! Non ho! Prendco Cosa è la region sotta! Non lo so, non lo so... Non lo so... Segui, non lo so... E nessuno si ha ricordato E ora, come facciamo? Non lo so... Ma non lo so... Ma non lo so... Ma non lo so... Franchi, ma non lo so... Un'affermazione, un'affermazione, un'affermazione... un'altra ricocere senza zuportare che non stiamo in locata a spettare, ma ne? Hai sentito quello che hai detto? Ma hai detto come hai detto? Fui mani da bocchiamo, un'altra ricocere, un'altra ricocere senza zuportare che non stiamo in locata a spettare, fui mani da bocchiamo! Fui mani da bocchiamo! Che vuole la tua, ti va a fare? C'è la mia? 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 E' la mia? E' la mia? C'è la mia? E' 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 la mia? Si, 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 si... Ma, chatanà! Che succede? Ma hai detto che non sono mai vedi. Ma scusate ma perdonare. Un'altra ricocere come te hai detto. Come non potete... Come non potete... Come non potete... Cosa. Non siamo, ci sta a riuscire, non basta a morire. E ci leggeremo, non si è quello che ci fa. Perché non ci sono mai più ... Mentre voi veloci qui. Sì, non basta. Non so se questo, ci prendiamo un pollo. E ora, vi presenti un po' di noi, perché ci sono più giocati. Nessun tempo! come è che c'è il bagulio di professione? Giuva che ci ha visto appoggiare il crocosione? ma niente ma niente ma niente ma niente ma niente ma niente ma chi? ma chi è questo cosione? Giuva permettevi di usare un linguaggio a noi consono prego guarda sì ti ci dovresti appoggiare col derettano Giuva ha capito? ah ora ho capito ma non ho abbiamo i problemi abbiamo insomma faccio antide sul v integrate ti d Britt ronna marie ho mi ? hai mi sento si tunglo so for come il Voi ci sono? Voi, vieni! 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 Vieni tu, tu! Vieni! Vieni! Se ancheciam. Eh? Le pe altre per capire. Non. Vieni! Oltre alle oltre anche val fore, Ah! Oltre anche! Il caricoidero combinato, che ci useranno questa seconda traineesone? Vieni! Vai a me, vai a me, a me. Come è rimasto? Non mi ha detto che non pensi che era rona marina. Ehi, ma mi sono in mezzo, ma mi sono rimasto girato. Ehi, mi sono girato. Per chi è rona marina? Ma non è che ci vuoi fare con i santa fimi di Rona marina. Oii Don Giubato, ma tu capire che la gente ti va a portare. Non è che devi tornare a me come ho capito. Aiuto me tu. L'uricina a me la tena. L'uricina a me la tena. L'uricina a me la tena. Aspe. A me indice. Aspe. Non ce l'ha fatta. E che non muova qui? Non c'è mai bisogno di provare. L'onorevole dire. Perciò appoggiato per amici. E' il pò che è stato guardato. Vieni da raggiare il pò. A me la tena. Consentimi. Consentimi. Qua ci vorrebbe una zona coordinata e continuativa. E per risultare a fare la loro ciappare una volta stupettiella per i bè. Ehi! Ura di ruot dottore. Tieni ragione Ciccio. A me la teniamo più tempo. Tu. Vieni schiavi e pivri corna. Ricorna. Zinca. Un po' che? Tieni ragione. Soli. A me vincere. A me vincere. A direzza. A direzza. Aspe. A direzza. A direzza. A direzza. A direzza. Noi. Ho. 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 Ho, ho. Ho. Tieni ragionevole. Ho. 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 il corpo si è riuscito, si racconta ehi! 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 e che non muove? sì, sì un po' di metà va più mezzo e vai più a Cariova a Cariova? e che vuoi fare con questa Cariova? e ci siamo, ci siamo, ci siamo e vieni a portare ma che ti credi che non mi avevo come a te? i mezzi che ci siamo che combattere pietre e combattere hai visto che ci sono? cosa sei? e poi, non sai che a Cariova avrà la rota in terra? e non l'ha accettata e non l'ha detto oi tu ci vuoi? aiutati per la piscina mani, mani bello bello però bello 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 ma che vuoi? ehi! ferma! 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 ehi! 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 ciao 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 e Ah, ah, sono finito i riusi. Sono in grado da due settimane, e che non c'è vera niente. Ah, cosa? È proprio la fredda. E che voleva avere un'altra vita? Noi, ma non c'è vero. Ma non c'è vero. C'è vero che non c'è vero. Noi, ma non hai capito che l'ha fatto tutto il tempo. Ma non c'è vero che c'è vero. Ma non c'è vero che c'è vero. Però, quando hai visto che sei stare in grado, mi guarda una colloccia Stuart. Non so, non sei guardando una colloccia Stuart. Non so, non so, non so. Non so, non so. tu quando mi sconti a me girai a capo come uno scurti manca se per il samba che ti credo come un sogno accorto che avevo fatto io per me scanzare e per rupare rischio tu, tu tu era ancora un sacco che aveva fatto tutto il tempo e poi non hai capito quello che mi ha portato qui chi è? tu non hai capito tu non hai capito tu non hai capito tu non hai capito che quando hai visto che ho fatto il primo piede che avevo fatto l'amuse eh sì poi sì che io ho usato anche la mattina qui con una radio non girai a disco mi hai fatto un nome sì un nome in pochi tempi e ti hai fatto sapere che io che rupare rischio tu è best e per domandare una bestia ti hai capito che? e che ci mancava con uno mi vi siete ma non mi piace ah qua non teni uno proprio una soldata che mi ha portato come a portare rami 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 si devi freddo che non stanno vanno in mente mris mris rami mentre tu sopravo a te ti faccio usare parte la marcia o casano va a fare il gatto con chiaro mussimo che ho avanti a mia stessa ma vuoi capire che il tempo si accende la tua ipa alla fine ma non vogliono portare qualsiasi con i maschi fatica con i maschi e guadagna più di maschi c'è la pari opportunità che c'è la parità dei sessi c'è la parità dei fissi come a te che ti ha fatto girare a che piste giù tu senti a me non te voli a pari con i giorni a film si ammerta sua mente che ha fatto il giovane con la cacciaere non è un giovane mancare me a grande carca i quazzoni che hanno portato sua mente in asco su su masco romi io arveri animal tu avere fatto aspettare me come buona buona festa noi andare adesso immediata mondo se no io prendere altro boyfriend camaro mi camano cadete che poi stai zitto tu quando io parlare tu non puoi fare silenzio si a dite a su farsi che le cadete si trova netto zitto richacelle su caccia su poca caccia rarac casse giri a tutti i cordiani nel tuo muro muco martinuto mamma che di portare e ma usa clari detto che mi ha risposto stasi se non si può accortare ma vera il libro che mi ha portato un po' se manca parlare ma vera io ti ho chiesto qui ti ho chiesto ma fa ma si e tu vuoi va che p si può solo passare costa lì per che ma portata gay e pensi tutto il ruolo che si dà poter usate che fare niente che guarda e abbandonati per la giu ma come trovo coronieri per accedere ora capo che si crede come potete fare come trattacolo squadra tu mi vieni ma come io non c'è la bo ma non con lui che era fai ma con lui ha fatto un rispetto a lui fa buono ma vuoi dire su fai e che cosa è perché ha pure voi il tuo amico perché ti lagno misero mortale cosa turba il tuo animo perennemente non ti è sfatato su chi è che ti ha fatto arrangere questa mania un po' di ciancia mi ha fatto il tuo schifo e il mio figlio e il mio figlio mi ha fatto una stessa sai come tu hai detto dire al professor Rucciottimo io ho detto e la cifra che è riprendita e ci sono buoni che ha raggiunto e che c'è patina qui e l'altro che ci stai scattato tu mi sono ancora semplicemente e non mi sono come Cici, ma avete morto o campango? Però se non avete capito, perché? Ma avevo già detto che l'ha portato il tuo figlio. E che cosa ha potuto mai dire di così grave? La donzelletta che viene dalla campagna. La donzelletta che viene dalla campagna? La fronzelletta! Ha trattato come un ucciso! Non ha fatto mai parlare! Ha capito? Con tutti questi giovanelli belli che c'erano, proprio... E poi... Ha ruvido! Ha ruvido! Ha ruvido! Ha ruvido! Ha ruvido come un carroccio! Se io non ci stai capisciando niente, quando parlare a chi si rende runguto, per piacere, ma che succede? Ma che puoi capire? Che ne vanno io? Non puoi parlare anche una parola che non mi ha pensato, ma che non mi ha pensato, ma che non mi ha pensato! Ehi, come la pieta, ma va a me! Ma non li conosci i giovani di adesso? I due traseri dove esce! Calusciarini! Eh, puoi avere i sensi di nuovo, mai! C'è a mentire pure che anche la città, venne a dare un'altra pizze di mondo, non c'è una città, un'altra città, un'altra città, un'altra città, un'altra città, un'altra città, e quante fattighe? Nella notte! Nella notte! Nella notte! Che c'è ancora più! Ah! Lì stanno tutte le cose aperte, tutti i bar, i ristoranti, i cinema, le discoteche, le night, quello che vuoi! Che a dove vai? A dove vai? All'acqua! O a la cantina di masciuccia! Ma su? Che a 15 giorni, e a che una vista? A me, a te, a Rillo, a Ruocco, a 6 mondo per oggi! A capire a te, a capire a te, a capire a te! Ma che cosa? Si sapeva che a Curgeno c'erano solo la mente, la ragione, la croccia aveva, era anche una crepa! Che ci è venuto a fare? Che? Vi state sbagliando tutti i riusi. A Curgeno! Oh Gesù, su queste cose che ricette voi! Ah! A Curgeno! C'è un grande tenement di vigne che ci ciasc'hanno bene, che le suonano su a me! E chi le sembra lì? Vatta! Con barreri di mannarene! Quest'anno hanno fatto la malafide! Ah! Era Castagna! Era Fugio quando ero tì! A mia Curgeno mi piace! Perché quando c'è chi esce, me ne c'è chi vuole le bellezze che c'è! eh! 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 Andese, professor! E che ti credo che la faccia che quando vieni qui? Me vieni qui e vuole le belle tutte le cose che ci sono in un paese! Eh! Ah! Allora, te ne vieni! Intraverso a qui e lei ci trova la vecchia reina! La vecchia reina! Intrava, 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 scontrava i guagnoni che gli occhiano a scendini! Intrava, avanti alla povera! Quando c'è un mare, capisci, non lo serve? Eh! Ti bevano un pezzo! Per un barri di Gies, per un barri di Gies, per un barri di Castiglio! Eh! 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 le numeri, le montagne, i vari frissi e che ti fa venire a San Francesco? C'è un piattino! O Simone, ci sono cose che possono apprezzare solamente quelle che noi hanno mai la vostra cennata a tutto il Paese di Caudie, che cosa hanno voi che la poter gu screens? E il mio? Ma io, questa cosa che ci prendono, provate! Eh! Che ci prendono quanto ho fatto? Uh! C'entrano! Come si può fare immerse? C'entrano! Termini in casa questa e questo ne ha tutti qui! Tu sei troppo severo con le debolezze umane che io metto i canici per quante capelli su domande su paghi. Vero se mi puoi pensare tu a qui. E tu puoi rire che quando questa guagnia mi supercarina cura con cella non poca curta e tra poco ti piava non sfruttati. Hai capito? Sì, professore. Faccio accortare tu. Ecco qua. Che cosa roba? Non lo sapevano. Non lo sapevano. Non lo sapevano. Questa cosa. Ma se ti prendi i cani. Un aiuto. Non puoi sapere niente? Cicci. Un aiuto. Un aiuto. Facci per un bicchiere di acqua. Professore. Buonasera. Che è questo? Il glitch è giusto. E in questo modo. Historia è per a me. Facci per un buccio. Facci per un buccio. E non lo sapevano. Non lo sapevano. E cosa è giusto? No, non lo sapevano. Solamente. E' un buccio. E va esserci per il cuoccio. Che corretta brutta! Che cosa fai questa mattina? Ma dov'è farlo con i figli? Tu fai farlo con i figli? Ti fai farlo con i figli? Ti fai vergogna per la gente che è morta con i figli? E non ti fai farlo con i figli? E allora che bello a dire questa cosa? Che c'è la guerra con i figli? Che c'è la guerra con i figli? Che c'è la guerra con i figli? E tu, Francia? Che c'è la guerra con i figli? E non ti fai parlare a farlo con i figli? Come tutti i figli che ci sono idrati Ci sono arrivati con i figli Gli uffici li li hanno portati a frustere Chi? Non capisci tutti! Non capisci tutti! Non capisci tutti! Ma quando che ci trovi di questa tappa il tuo lattore, non capisci Non capisci? Ha visto? Che cacciamela che è? Ed è stato in maniera come agendomi e ieri, prevesse, dubbiati il cemico, se ne ho un posto c'è lì, come la taggietta è rimasta senza dubbiati. Ma non lo sapete, l'hai visto qui? Ti ha aggiunto. Però il capo è quello che tu sai che tu sai. Ho visto, sai come sono topoli ieri. Eppure canaruta, risgradigliere. Canaruta e burracina. Ti ha tutti i miei rifiuti. Tu. Un giorno ne manca. Good. Io mi volevo sapere il spirito sa. Sì. Per sapere che cosa ci si è innamorata con la figata del figlio. Ma se ne so se ci hai fatto, chi sta qui? Good. E' da qui. Ma che sei che noi, ma chei questa bella giochina, che questa città è una garberta con un indice. E qui ci sono? 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 Neko, Pasqua, Watt, c'è nusitù! E che li amareci, ma, ma, Shatana! E che non sa fai? E se sa bestre, e se sa ammauere, e se sa mindre un rossetto, e se sa appresentare con la gente, e sa parre! E come sa camminare, e come sa ammauere, e come sa ballare! Le tue orne sono venute agganciare! Vi ho visto, vi ho visto! E sono venute a tirare via! E che non si è buttato! Tutti i giovanili s'hanno mangiato con lui! Di ribellizia che te le! Ah, ti senti, ti senti! Ma, Shatana! Per noi! Come era tutta contente, salutava la gente, come una regina! Eh, come una giveta, per cui ti dice come una giveta? Che bella, pronta, pronta! E questo era quello, che troppa, pronta, pronta! Ma i giovanili s'hanno, quando camminano! Le pietre che manca, c'è una bellezza di un minuto! E tutti non correranno con che pancia con la pappa! E' un po' che mi fa male! E' un martello che ha portato il minuto! Oh oh, quanto è bello! Fami dire, bella! Bello! 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 Ma non mi ha fatto, non mi ha fatto! Oh! Quanti! Quanti! Ma non mi ha fatto, non mi ha fatto, non mi ha fatto! Si! Si! Ha capito? Si! Eh si, grazie! Vedi quanto mi ricordo? Si! Tu trovi ancora questo pasto con un color di rosa a loro! E io ti, ti accucciare una rosa! Ma voglio che mi riuscire! A te! Era una prosperosa mamma! Un'altra! Si! .. ma che miиваем... Iniziare a prendere... La soffrezione! ivosare come te! E tu! Perché ti accuei un po' con te! Questo tu ti accorgei? E tu ti accorgere! E tu non mi hai fatto? E tu non vai venire! E tu ti accorgere! E tu t'entrai! Quanto in me? Ah! e adesso ti ha detto parte? che ha detto? vado a prendere questa p***a non so 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 bravo Francesco ti vado a prendere grazie 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 a me grazie è bello grazie grazie qua sei tu io a parte chi è un uomo antico è rimasto ancora a rimbarare ma sono bellissime chi è rimasto ancora a rimbarare eh sì capisci chi va a nascere ai tempi del pro di Achille ma è come la busteria si chi è e ti credo con un uomo mio non mi sa mai Achille è stato uno dei più grandi eroi dell'antichità ah aveva un uomo poveri sì il tallone il tallone il tallone il tallone ma tu che cosa cosa? preveso che ci faccia sentire che e fanno sentire che cosa? che cosa? il tallone preveso che non tagli cucuzza ranna ranna ahhh grazie Fai mi piacere, non abusare della tua intelligenza, non può succedere anche una cosa, ma capi? Il tallone di Achille, lo sai che è? Che era un carcagno! Quello, previsore, ora è solo manca! E ora ci vedo che è chi? E le vibri non è che lo portavano? Ma non lo portavano, quando ero resto a sinistra. Vabbè, comunque, grazie. Tu fai sapere da nu per io, non son rumen o per me, insomma, fra una settimana. Per un riccio. Previsore, ogni foto che ripete la buca c'è che senti. Sono cominciato, spuggetta, se il brincio... ...è visto che io non ho parlato. Eh vabbè, tanto piace. poi ma pure sì sì quando prevesse rome legge che cosa che scrive per me ripassi sì sì la giugna per me ripetere devo tuttora uno pozzolone e trovate me ma guarda che scosto metti wagnone per come ha potuto fare a russi che era clava ma guarda che una po ma che ci hai avuto il rafferio suvati attimo su carcanicero 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 ciao good morning solo solo good morning boys meglio so come ava compagnia ah busseria si che capisce no pagina il cosi piacere sembra la laveressa io no fessa rome giuli lì vressa usè che vuol dire no vuol dire buca sutta oh yes io andreste fatto il urgenese non sa manca l'acqua che deve siamo a cinque anni insieme ancora tu può imparare a dire buongiorno e buonasera non essere vero romi io avrei imparato tante cose sentiamo mangiare bere corcare state città fermi tutto il luogo che sono piccari si fanno popolo popolo e finisce i barringini maccanti io maccanti si chiama la sogna la vattene su un piacere che miglia ah maccanti professor oh il padre mi parla che buona che buona che buona che veniva il 6 settembre e cursava anche una festa ma io piacerebbe parte a quelle che veniva oh professor le guagnone la pera sua tutti i uomini se ne vanno in poteca poteca a fare un shopping ho capito poi se ne vengono i bar bar e si vengono i drink e lo drink e bene su un buon anno i kettle e poi professor quando sono stancato pio si assetta e il pepino è anche una cosa vera professor faccio un amico ma mi capito ma che ci vuoi bene e adesso che sarà così oi romano ma che staccia non perdere la famiglia se sbaglia sbaglia sempre per amore la famiglia quindi parte la famiglia mi capito professor e come fare come fare i menini capiremo come meglio potremmo aggiustare la sala prima che venne a parte e vieni 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 Bisogna la regione del 우리나라 Via di farare un virus Restiamo la città E poi l'apparano per voi E' solo ragazzo è morbida Fransio, come ti è? No. Ma andiamo al Parlamento che ci siamo. Ci sono i medici che non ci arrende Atena, ora ci sono i suoi suoi. Hai mai detto il fatto che compagnia Agustino Ruscianese, ti ricordo? Agustino che? Ruscianese è un docepile. Oh, aveva pietro, non aveva mai visto che tutti i giorni caccia e caccia se ne veniva di Prainette, e se veniva a senterare un uomo di San Francisco. E se ne veniva a senterare a senterare un uomo di Prainette. Atena, ora ci sono i suoi. Come? Come? Come, come, a prenderare, quando si. A prenderare, i suoi stai chiesti. Come, a prenderare, ma a prenderare, ma a prenderare. A prenderare, non aveva mai visto che vieni, Mi chiamava tutta un'erbatura come una canna, e fuio taracchese, e pietano vetti scupe, che se mi devono arruggire, e l'aiuto a scondere rettivelle, e mi scordi meglio, che erano i bellissimi giorni, che erano bello uscivone. Quando mi ha visto da fronte urscianese, e chi mi sognabbe genetere ha guardato buono buono? E non lo so stupi non lo so. Ora mi sono accornato a miso di un uomo che ci stanno pecano. E non mi ha visto vissare ne vuole, e mi diceva, se staccoli a farlo, che mi sarebbe un uomo, come una canna, e con schermite un po' suonare il figlio, mi sarebbe come una gara, non? Che forge? Che cosa vuoi? Che faccio, mi picco. E poi? Mi sono detto che non mi parla su un tetto. E poi, non mi senti mai. E poi, mi sono capito, che ci sono i conti. Io sono capito di capire che ci sono i conti, i conti che ci sono i conti che ci sono i conti. Questo è barato. Buongiorno ma tattana e ponda vetti mamma tu mi è venuta a dirge bot e non è ponda vetti mamma Se ne che pronta stelle c'è camota vipi E ponda l'u, ma spero mamma Sospetti nati che trugni pru quattro anni parte che hai finito strada proprio ieri matti Statti qui ti accosti me ne caccia tutti che ti hanno posto A musica per te A ti? I sordi parte tata No ma tutti, i tò di papè o madre Oh capito, ti risorti mamma ti ha porto tarma No ma tattana, tu mi ha naita naita, tu mi ha fatto mamma Oh capito parte ma Oh E allora stilice Va tu papà e mamma E ti chichanummi ma tattana Casuman no rena, i bloberman in ca Eh E mo, vattini, ma tattana ci pa malacca Beh, beh, beh Quando tu butti ma tattana Mori con papà e tu facci minare Asi? Scusi tu meta, mamma, a crianzete Ma ti naita 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 E bacini ci apparte kibiri sa ke Capo verem se naita faccio me feri i guidi Kami n'escusi tu meta brutta Ma tu ti ti, ma tattana Ehm! Eh 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 Questa Eh L'uomo Ehm Pauvesso Napa perdonea Quattarelle stai Depera E ti, hai dovuto me pijete Ti, hai dovuto me pijete E tu chirova voce me hai sabato Ehm Questa di quattarelle Ah, quattarelle Prevesso Cos'è che tu vuoi s'adere? C'era un po' di tempo che tu vuoi s'adere. Ma quando ti ricordi che perché vieni sempre a me in vacanza? Ma è possibile che tu vuoi passare tu, o tu vieni a niente? Oppure se ti accasso qualcosa, tu puoi accettare. Oye, French, il professore usa un paio di stipendia. No, io non usa un paio. Sto pensieri si prendono. No, io non uso. Quello che a mattina che ci ricordano. Eh, eh, eh. Quello che quando si ricordano Aracchese, usano quello che trova. Il professore usa che era Aracchese di Marciana e di Rocchetti. E di Francesco e di Matassa. Un giro mancanente. Un giro mancanente. Quello che basta portare i prof. I prof. Non è un poesia. I poesia. E non è libera a scarsi la filosofia. E tutto un'altra cosa. E questo c'è il mentale. No. Prefesso, ma scusate per a rire. Eh. Ma questo ma ha il segno proprio. Signa, signa, tada. Dicevano i cantori. I cantoni. Grecci e latini che chi pensa al materiale è ritenuto un animale. L'etica e la morale leva l'uomo al generale. E ma che ti dice. Che sono 100 anni, ma tu puoi capire che il guitarista tornerà a nascere un'altra tre volte in rifaccia. Hai capito? Eh. Attana, te parlare. Te parlare serio. Prefesso. Ehi. 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 Prefesso. E tante sacrate che tu fai a rire. Attana, questo dilemma. Che? Ehi. 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 Prefesso. Ehi. 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 きます. Ehi. 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 Ed da, C'cio. Chiuro. Ehi. e che bello a dire questa volta che bello a dire forse voi si è deciso di provare il teresa il teresa no forse quando è cresciuto voi ci aiuta a cattare pure la tania oh tu fai parlare di lui fai la sua faccia faccia la sua faccia fai parlare di lui la capetta scusami Achillo chi c'è? che mario? ma dove siete perguagni che non siamo nella famiglia non lo sai? sono imbarazzato vuoi ci abbracciate? buona venuta a casa nostra bravo professore ma che stiamo abbracciando sei ancora un peritenente ancora non so che dire un peritenente io quando si tratta voi sapete queste cose senti mentevo ripeto come tu puoi uscire non fai a te bravo non fai a te quando si tratta di queste cose d'amore io divento timido non fai a te guarda e tu? invece mi hai un'aiuto a me non capisci niente? sei a tre mesi che tu stai facendo capire una cosa in a rosa e tu non mi hai aiuto oi professore chi? io non so chi stai a me uuuuuuuuuuuu i mochi ai cappi e rile che a me è rimasto ancora un cantante anche che contenti saranno che ha portato entrati a me vieni mi abbracci sempre che l'abbracciamo come amore ha bello e bello un po' ma te ne sentite sentite però mi ha provato un'altra cosa ma provato un'altra cosa si richi un'altra cosa mi sono innamorato bravo bravo professor nutro per lei un sentimento perchè la femmina che mi ha fatto perdere la sua io ci vuoi dire a rile ma poi me ne hai fatto bravo eri te mie di capremurici mare genitore bravo anche per una forma di rispetto si e che cosa che bravo professor si tu stai sempre non avanti e vabbè questo ci sono è normale io stai sempre riuscito a me e usano tutto a me che quando si parla a tu professore se ne cacciano tutto qui maschi e qui ci cacciano su io io eri te di che tu sussambi stai adesso affortuna la casa me attana e chi sta tu a eri te che ti ha detto che ti ha detto attana mi ha fatto la mano di base e perchè attana se mi io mi ho te rire che 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 non so e e si che e appare attana un bello io attana mi sono innamorato di marina cadete un avoccio a Teresa nozzi a tutti si aiuta a trovare a marina a gannone si aiuta a trovare a marina a me era nuvo che non stai a mantenere la guinta su lei e si professore parra con me a me è una meraviglia di te abbattendo tutti i giorni avanti al luogo e mi faccio dire pure con la sera marina il tormento dei miei sogni marina ha figli di pippe, ha figli di pippe, ha figli di pippe, ha figli di pippe io non ho avuto mai il coraggio di riuscire perché questo vuol dire a me per me ci apporterà la macchetta e la mamma questo tu puoi scordare che presto mi vedi a entrare a me e non è così e ora mi ha portato pure a gestire la pippetta a me la pippetta a me la pippetta a me la pippetta a me la pippetta che mi ha piaciuto i banni e bà cavano gli tera pupetta una cortelletta in tristendina e non gli tere e ma che ne vorrei dire a Teresa no, come appena Teresa stu fatta no Teresa? mi hai sentito buono Teresa e che c'entra Teresa in questa storia e vieni a dire che mi appoggia di speranza con Teresa no ma state che c'è una pace ma sono veramente una bambina Teresa io l'ho sempre considerata come una sorella minore come avrei potuto mai dico mai innamorarmi di una sorella una sorella no ma è una puttazione ma starecci abac tu fattara tu fattare tu fattare tu fattare tu fattare tu fattare c'è una sorella perchè tu fattare tu fattare arca che tu me canta putti and dracca sanita chitano per bellocchi a te oppure musta oppure posto joey cappi over to the shit and ever put in a run at a poichica to to your number mavena mavena capo e poi si scrive but I can scrive su buono sua copier copio e si usa catarica ma vattene la bando voce me casino mart era di tratto ma ninta su tipi ero stessa batte proprio ma vattene fatti vattene la casa mia brava ma satanasi e rocchetta brava ma satanasi e rocchetta ma un mare che arriva chiese e ropa che le che fate per te e per tutta la famiglia tua vattene la casa mia ea tana chi si mai scrive chi si mai scrive la forza forse tutto scurdo che io caddino ci tengo i miei diritti le mie rivendicazioni tu si io che ti prego che ti sapevo profumatamente hai capito e che ne ha avuto in cambio di voi l'ignoranza l'ignoranza pura mi ha avuto succare tutti i vostri piagnistei che si è avuto a fare che sta succhetto che sono questi piagnistei che ha detto ecco qui si è la risposta all'ignoranza vi piagnistei io se che vuoi dire vuoi dire che aveva ciancita tutto i giorni come state facendo ma finalmente che aveva erito mi sento sulle vette attana prima che mi scuola a proposito di che le ruote cammare il mio legale nonché è fraterno amico luigi cardellini ma ditta pane pane bene bene e che bene a dire sto bene stupendo ma ditte che le cammerelle miei cari le ho uso capite ad capire cosa non avete capito può farci capire chi non ho veramente un nome capite niente fanno capire la bocchetta ma ditte visto che ormai ci sei da oltre vent'anni in quella casa ne sei diventato il dominus un dom e chi è questo dom? ero un patrone attana un patrone come ricettua perciò se c'è c'è anche uno che è stato a cogliere i bagatelli questi siete voi? non ho capito che vuoi? ti parlare immediatamente io mi parlare io non posso parlare io non ho capito io non ho capito hai visto la cosa che mi è piaciuta perciò ti parlare mangiare ma ma e che amare non ho capito però si non ho capito io non ho capito ma è quello che mi è piaciuta ma sono ma si non ho capito ma sono non ho capito proprio per me è tu è non muoveremo una citazione che ti riceverai fratello professor Karim i garzoni sono domandati a te ora mi ringrazio che sono tutti certi parlamenti che mi hanno fatto aggrazzare i carri e mi hanno fatto buttare il stomaco stasera mi hanno trovato un nuovo avvocato comunque ci vedi che mi tocca anche una parte della pottina ah pottina che ci interessa perché l'ultimo vent'anno tutto scuro ti hai passato carino tu fate che io ti avrei usato io maturavo i miei diritti perciò cominciate già ci penseremo a quello che fate state buone state buone e a noi che nemmeno monta un pozzerino che c'era gente mi hanno fatto un pozzerino ma allora ci siamo dove sono a terra io non ho capito che c'è questo proprio ci aveva fatto che ci aveva detto che ci aveva detto che oh che è questa cosa che è questa cosa che ha fatto ma che ha fatto non ho capito perché ti conto che io come hai fatto ho capito ma hai fatto ma voglio sapere come pensate che ci sono buone in casa ci siano raccomando capito sapete ci siamo in casa oh e sei una cosa buona c'è una giornata con me e io sono ancora una buona notizia io ho ancora una buona chi io ne ho ancora mai mi chiama io ne ho ancora mi ascolto e io ne ho ancora mai mai io ho ancora mai mai e se è una buona E se è una cosa buona, ricamé il Gioi Pappé. Oipa, hai fatto una penzetta. Perchè? Perchè? E perchè hai fatto una buona? Non è intelligente. E rite? Perchè mi hai rinduto con la cammarella che c'era il professore? E' un colore, un colore cammarello, un colore! Perché a questo giorno mi chiamiamo la cammarelletta. All'altro ci facciamo la stagliatella e ci facciamo la cucinella rubagna. E questo mi spuso con Giulietta per sentire che si fosse riuscita. E io, oipa, io quando hai fatto buona? E rite? Si. E rite, se è rite che si non fitte. E vissi a te far aspetti a tutti ieri. E pur che hai fatto una buona? Non è un'unità. E i soldi che mi chiamai, e non basta solo per potamusi e un'unità. Perchè potamusi? E certo che. Si capisci. E chi è stata grande non ti? E che aveva un miglioratino e tutto quanto. E anche tu aiutati Puggeri speranze a riuscita a riuscita a cammarelletta. E con il professore ci ha parlato. Il professore l'ha detto con un pantone davanti. E il professore è un'unità che mi chiamai a riuscita a riuscita a riuscita. E ho detto che sia stata grande e non metta a riuscita a riuscita a riuscita a riuscita a riuscita a riuscita a riuscita. per me, per la mia famiglia che tu sai sai che ci vuoi fare questo? credo, in Spagna non ci mangiano, non ci possono mangiare ma non c'è la mia famiglia e più tanto che la mangiamo, che la mia famiglia e poi, quando ci puoi fare la cattella? e la cattella con il ruolo mobile che vuole ah, perché chi sa di fare la cattella? e tu chi fa? ah, non c'è ma veramente una cosa c'è la cattella, ma... c'è? c'è una cosa c'è la cattella? ma cosa vuoi fare? e cosa vuoi fare? che vuoi dire? Giulietta, prendi i tre mesi e prendi? i tre mesi prendi la cattella tu hai già sentito ah e mi vuoi dire che ci vuoi stare con la cattella ci vuoi raccogliare e poi prendi la cattella poi, andando ci vuoi e quando ci puoi fare cosa vuoi fare? e ritare a ziti oi Giulietta facciamo i bagagli e che metti la cattella e che metti la cattella capa pepera di quella maniera ma occorre una buona che occorre che vuoi ma costa pello che mi sta facendo facendo la cattella tutra munista parte senza che metti senza tu vuoi tu vuoi che che si facciamo i cosi qui st anche la cattella calcana è una quando ti vai e fu perché tu tu ti 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 e non lo so, non lo so, non lo so, non lo so. Ma ora ci sta dicendo a me che è tutto apposta. E non lo so. Oh, professore, sono più contento di tutto. Sì. Dice che finalmente non ci può imparare tutte le cose che c'è. E lo faccio qui. A me, è quello che c'è lì. A te. E poi mi ha detto, mi ha detto, che vuoi battere l'Atanasiello. L'Atanasiello? Eh sì, perché vuoi chiamarla così, perché la possibilità è ammigliata. Atanasie. Atanasie. E che ci facciamo fare una macchina su tutto? Ah no, poi farlo proprio cantante. Ma che ammigliata? Oipa. E poi? Ma a me non pensavo che c'è la risa. Come ho detto che io ho fatto. Viene a dire, no? Quando le manate a dire che la zitta mia che era a prendere, mi voleva ricogliere la casa. Loro, aveva un momento, hanno avuto una torre rosa. Ah. Poi dopo, hanno pensato, che se l'Atanasiello ci ha portato una femmina a prendere in giro, avessero di fare ancora una città. Allora, che per uscire, professor? Si ha mandato tutto su fatto. Ah, che bello. Ti ha detto che si era fatta la città che aveva a prendere le pupette per uscire come aveva che aveva a prendere una femmina più piccola che quella. E come aveva a prendere? E chi le pensava che aveva a prendere meglio? Allora, tutto su fatto. Sto a prendere la città che aveva a prendere il professor. Ah. Che fai una ru... Ma... 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 faceva il Sirius a prendere te la caissella. Si. Perché chi? Vuoi trucolare la piazza. Ma... 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 Il Sirius rechts si vuoi trucolare la piazza perché si vengono vicino a te e così tu e io non ti vengono a trovare e ti vengono a spostare e quando poi se vengono a mangiare che non avevi più di quello. te ne dà giù, ci vengono e mangi ma sempre che ho permesso il mio satanasi ma scusate insomma, che ho permesso il mio papà è vero il coraggio di chiamare il mio papà io rompo tutto quello che mi ha fatto e poi, abbatto su tutti i bici vabbè, hai una bella famiglia, che è in maniera te guarda il salatore, guarda il salatore come tagliava le spalle a me hai una moglie che ti vuole bene che ti metti me nella pilla hai una gioia, i figli una più brava, la garbettina che quando cresce cresce in pace? no cresce in carcere? no cresce in pace cresce in pace cresce in pace aspettaci che quando vanno a fare la spesa assomigliano il tuo stile e poi c'è uno che ha il figlio di maschio rotto qui, 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 qui qui, 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 qui e che cosa che che finalmente ha capito l'imparamento di tutti sessone e che quanto per i trovati non iniziate vabbia 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 non c'è la fine non c'è la fine vabbia vabbia si se no ci arriva ci arriva un merito che non c'è nessuno, non capisci è bello professore io ultimamente non capisco niente né bello e né sia sogno rimbambito proprio come un tatarano però professore la famiglia ci hai voluto e ci vuole sempre bello e rimbambito è buono una mensa così ce l'hai capito pure che e poi voglio andare avanti a tutti qua e dici vai carino tutto quanto vuoi pure che? chi ne ha manate e chi ne ha avuto state tutte speranze a rufumere la cannella eeeh chi è rufumere? guarda va chi è rufumere? chi è rufumere? chi è rafumere? e chi è rafumere? eeeh eeeh e' oggi you break di chi viene avuto ma parola che è fatto che è chi è Stilicella, Anna Mica Il dottore Don Giovanni Cosimo Smiriglia Pupetta Sonia Corrado Marina Annabella Oranges Teresa Francavolio Il postino Giuseppe Iacino Graziella Carmelina Sapia Sabella Giovanni Campana Romeo e Giulietta Salvatore Viteritti e Valerio Oranges Il professore Francesco De Gaetano Francesco Totonno Amica E infine Attanasio Gino Iacino Il nostro regista Francesco Celestino E gli altri componenti del gruppo Giorgio Candia, Marzio Aiello, Pietro Rizzuti e Alberto Aprilino E adesso un ringraziamento particolare va ad una persona che con il suo lavoro ha contribuito alla buona riuscita del nostro spettacolo Il nostro direttore di scena Vincenzo Campana La compagnia tutta Buonanotte, grazie di averci seguito Buonanotte, grazie di averci seguito A giù di notte, a cestello di buconotte Quando il film avviene meretete A quattigli innamorata Quando la zitta e la zitta e il cele E qui struscia e le mannelle Quando la zitta e la zitta e le cell E qui struscia e le mannelle Grazie a tutti